Un saluto a tutti cari amici, buona domenica e benvenuti sul mio canale. Nel video di oggi incontreremo un'altra siciliana particolarissima che secondo me contende il titolo di capolavoro di arte moderna a quella difesa moderna giocata dal buon Icaro Nakamura qualche giorno fa. A proposito, riguardando la copertina ci vuole un like soltanto per la faccia che sono riuscito a scovare del buon Icaro. Ma ritorniamo a questa partita, mentre aspettiamo la finalissima con Magnus Karz, divertiamoci un po' oggi che è domenica con qualcosa di più leggero. Una partita di spareggio tra Caruana e il giovane fortissimo Abdus Atrof. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Michele, nuovo abbonato alle mie video-delezioni, che ormai lo sapete, oggi non la faccio lunga, sono qui sul canale a 2,99€ al mese. Adesso like al video e partiamo subito, perché in questa partita, la prima, se non mi sbaglio, dell'E4, Karuana di bianco apre con E4. E allora, no dir backup, Abdus Atrof risponde con C5, la difesa siciliana, cavallo in F3 per Karuana. E adesso noi sappiamo che sono tante le continuazioni ottime a disposizione del nero. Sono tutte quelle idee che poi creano quei setup stupendi e che noi conosciamo e che hanno fatto la storia degli scacchi. La più giocata è D6, che può portare anche alla Naidorf. Anche il cavallo in C6. La stessa E6, che porta alla Khan e Taimanov, soltanto per citarne alcune. Anche G6, che sarebbe il dragone iperaccelerato. Insomma, ce ne sono tante. Abdus Atrof cosa fa? Gioca cavallo in F6, una tra le meno giocate, si chiama Variante Nimzovic. Ora, il grandissimo Nimzovic è stato veramente un giocatore eccezionale, un grandissimo autore. Anche di una simpatia enorme, ma anche di una cume. Perché lui faceva dei paragoni, proprio un modo moderno di istruire. Non arido, come spesso succedeva allora. Lui dava dei nomi a delle idee, proprio per farle ricordare. Insomma, raccontava delle storie. Un personaggio visionario. Non tutte le ciambelle escono col buco. E allora, che succede dopo questa cavallo in F6, che attacca il pedone? Se il bianco gioca cavallo in C3, che oltretutto è la mossa più giocata, anche se di poco. Il nero spinge subito in D5 e cambiano un po' tutti i temi della partita siciliana. Cosa fa invece il buon Caruana? Gioca la seconda mossa più giocata, avanza il pedone in E5 e questa variante è quella che al bianco dà risultati migliori. Cavallo sotto attacco si porta in D5 e arriva cavallo in D3. Come mai? Perché va ad attaccare un pezzo che si è già mosso due volte. Se è cavallo per cavallo, questo ricattura e c'è il vantaggio di sviluppo. E allora arriva E6, cavallo in E4, due minacce terribili già dopo cinque mosse. Prima la spinta C4, poi lo scacco di cavallo, che praticamente fa perdere al nero l'alfiere forte, quello scuro. E allora la mossa più giocata è F5, non conviene catturare Anpassan o il cavallo si riporta con successo sulla buona casa F6 e allora il cavallo torna in C3. Cavallo per cavallo, il pedone ricattura, si è liberato l'alfiere camposcuro. Cavallo in C6, alfiere in F4, donna in C7. Pensate, dopo otto mosse, meno di dieci partite in database con questa posizione. Il bianco in particolar modo ha giocato H4 e donna in D2, che pare buona. Invece Caruana gioca un'altra mossa buona, forse leggermente inferiore, ma sempre ottima, alfiere in D3. B6 per portare l'alfiere campo chiaro in fianchetto, guardate, si sta proprio bloccato su questa diagonale dai suoi pedoni centrali. Donna in E2 per arroccare lungo, alfiere in B7, mossa giocata nell'unica partita rimasta in database, e invece arriva A6, naturalmente, per poi spingere in B5. Dopo dieci mosse la partita diventa originale. Caruana rocca lungo, e con B5 parte l'attacco del nero sul lato di donna. Attenzione! Ah, scusate, ritorniamo indietro. Ritorniamo a questa donna in C7, Quando poi abbiamo detto meno di dieci partite in database, H4 e donna in E2 più giocate, Caruana invece gioca un'altra buona mossa, alfiere in D3. Cosa suggerisce il computer? L'attacco del pazzo. Suggerisce torre in G1, poi la spinta in G4. Vedremo se fosse stata giocata questa mossa, cosa sarebbe successo. Allora, andiamo avanti, abbiamo detto Caruana, alfiere in D3, B6 per sviluppare questo alfiere in fianchetto, donna in E2 per l'arrocco corto, una sola mossa giocata, alfiere in B7, arriva A6. Novità di Abdusavro per poi spingere in B5. Allora, arrocco lungo di Caruana, e arriva a B5. Ma attenzione! Perché qui C4 intrappola l'alfiere, e allora Caruana cosa fa? Se lo fa intrappolare? Perché spinge in G4, mossa migliore? Pensate, se ci fosse stata la torre in G1, che disastro per il nero? C4 intrappola l'alfiere. L'alfiere intrappolato. Inizia il divertimento. Perché l'alfiere si sacrifica sul pedone in F5, E per F5, G per F5. Alfiere in B7, perché naturalmente da qualche parte bisognerà pur metterlo, arriva cavallo in G5. E guardate, certo fa una bella minaccia, perché qui non si può arroccare, oppure arriva il doppio di cavallo. Si apre però la diagonale lunga, dove l'alfiere del nero va a minacciare la torre. Quindi di nuovo pensate che bellezza aver avuto subito l'alfiere in G1. E allora cosa fa Abdusavro? Porta il cavallo in E7. Vincerà sicuramente un pedone, perché l'alfiere attacca la torre. E pensate, qui il bianco avrebbe già il colpo del KO. È più 5 qualcosa. Karuana lo ritarda di una mossa. Perché toglie la torre dall'attacco, la porta in E1. Il nero cattura il pedone. E naturalmente, con questa apertura, perde la partita. E noi siamo arrivati al nostro quizzone. Cosa giochereste al posto di Karuana? Mettete pure in pausa, se volete. Ed a voi la parola. Ritorniamo a noi. Ci vuole un po' di fantasia. Ma io credo che molti di voi l'avranno trovata. Perché Karuana cosa gioca? Cavallo in F7, col cavallo in presa. Mossa fortissima. Come mai? Cavallo intoccabile, che oltretutto fa due minacce terribili. La prima minaccia, minaccia di catturare la torre, sospesa. La seconda, ugualmente fastidiosa, non fa arroccare il nero. Come mai il cavallo è intoccabile? Perché se il re cattura, avanzando, arriva e sei con scacco, l'alfiere vince la donna. E allora, che si può fare? Si potrebbe pensare di giocare torre in G8. Ma non funziona neanche questa. Perché cavallo in D6 con scacco, si riprende il pezzo, quell'alfiere che si era sacrificato in F5, ma con un attacco micidiale, come mai si riprende il pezzo? Qui in qualsiasi modo, né di alfiere, né di cavallo, si può catturare. Perché se si prende il pezzo, il pedone catturando, apre lo scacco di scoperta, e di nuovo si rivince la donna. E allora, dopo torre in G8 e cavallo in D6 con scacco, si può spostare il re. Re in D8. Ma guardate che succede. Vince un pezzo. Quindi si riprende il pezzo. E dove è il grandissimo attacco? Prima di tutto, c'è una minaccia semplice semplice. Torre per pedone con scacco. La donna che è sotto attacco deve catturare per forza. Si ritrova quella brutta geometria. Donna di fronte al re, su colonna aperta, attaccabile da una torre avversaria. Quindi si perde la donna per due torri. Scusate, si perde donna e pedone per due torri, ma poi c'è un attacco micidiale. E allora bisognerà giocare alfiere in C6. Ora, l'unico pezzo da riposizionare è questo alfiere che per adesso è sospeso, se no si potrebbe giocare subito E6. Basta giocare alfiere in G3, sta arrivando E6, intoccabile, anche se il re si sposta. Vedete, E6 arriva lo stesso. Perché arriva con tempo, c'è questo alfiere che attacca la donna, questo avanza, insomma, posizione strapegna. E allora cosa fa il buon Abdus Satorf? Naturalmente si rende conto che catturare il cavallo perde la donna. E allora gioca G6. Una mossa visionaria in stile Nimzovic. Come mai? Perché purtroppo non serve a niente. Arriva infatti cavallo per torre, quindi vince la torre, alfiere in G7, attacca il cavallo, ma il cavallo, visto che la posizione non è cambiata per niente, può tornare tranquillamente in F7, non può essere catturato perché di nuovo E6 con scacco vince la donna, il re non può neanche arroccare lungo, si sta per riproporre, cavallo in D6 con scacco, Abdus Satorf, mestamente abbandona. E pensate, nelle due successive partite, il giovane Noderbeck, abbandonando, lasciando un po' da parte queste idee un po' più stravaganti, le ha vinte tutte e due. Una l'ha pattata e si è giudicato il match contro Caruana. Ma ritorniamo indietro, insomma, questa torre in G1, questo attacco del pazzo, si ripropone, anche se non giocato, si ripropone in questa partita come suggerimento fortissimo del computer. Allora, tanto folle forse questa idea dell'immediata torre in G1 non è. E allora è un'idea che noi possiamo metterci nel cassetto delle idee da sperimentare e da provare. E allora, spero che questa breve partita vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta e non siete ancora iscritti al canale, mi raccomando, iscrivetevi, perché stiamo per arrivare alla finalissima di Karzen e potete tutto mi aiutate a far crescere il canale, vi posso portare sempre più contenuti, sempre più lezioni e ci possiamo guardare insieme tutti i migliori tornei di scacchi. Buona domenica di nuovo a tutti e noi, naturalmente, ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!